Mio Dio, io sono confuso e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia. Ezra, capitolo 9, verso 6. Ravedersi davanti a Dio. Sebbene fosse confuso e si vergognasse a motivo del peccato, Ezra cadde in ginocchio e stese le mani verso il Signore pregando. Dio non rifiuta di ascoltare la preghiera di chi è confuso e pieno di vergogna. Egli, come il padre della parabola raccontata da Gesù, è sempre pronto ad accogliere il figlio che si accosta a lui, pieno di vergogna per gli errori commessi. La preghiera di Ezra produsse uno straordinario risultato. Mentre Ezra pregava e faceva questa confessione, piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti. Uomini, donne e bambini. E il popolo piangeva di rotto. Ezra, capitolo 10, verso 1. Ci fu un genuino ravvedimento. Le infedeltà commesse vennero non soltanto confessate davanti a Dio, ma anche abbandonate. La confusione e la vergogna sparirono. Se sei pieno di confusione e vergogna, non perdere tempo. Rivolgiti a Dio in preghiera, confessa i tuoi peccati, abbandonali con la forza del Signore e Degli ti libererà da questa condizione. Grazie a tutti.